Allora, è appena terminata la prima partita vinta dalla Juventus di Diago Motto, esultiamo, evviva, tutti belli contenti, anche con gli occhiali di giuttoli per non farci mancare niente. Ovviamente scherzo, perché poi le persone pensano che io sia serio, che si stia festeggiando una vittoria per 4-0 contro la Next Gen, no, non ce ne deve fregare assolutamente niente del risultato, come di quello di tutte le amichevoli del mondo, ma ha maggior ragione di questa. Però dai, siamo riusciti, siamo partiti da una sconfitta con una squadra di Serie B, a un pareggio con una squadra di Serie A, a un vittoria con una squadra di Lega Pro. Abbiamo completato nel giro di tre partite tutti i risultati possibili, adesso con l'Atletico Madrid andiamo a concludere questo precampionato e poi iniziamo veramente a far sul serio con il Como, in attesa della conclusione del mercato, perché le prime due partite di quest'anno, quindi Como e Hellas Verona, se non vado errato, verranno giocate ancora a mercato aperto, ma di questo voglio parlare in un prossimo video. Cosa abbiamo da dire di questa partita? Sempre tenendo sott'occhio controllato il fatto che non può essere un test attendibile, non lo può essere un amichevoli in generale e questo non lo può essere mai ancora meno. Partendo dalla fine, giocatori un po' scazzati da quello che si è visto come invasione di campo. Bremer era molto arrabbiato di questa cosa, è sembrato veramente stizzito, non so se avevano informato i giocatori che non ci sarebbe stata l'invasione, non ne ho la più palla di idea, però abbiamo visto che c'è stato un po' di astio, Vlaovic e Bremer non erano proprio contentissimi di questa cosa. La Juventus aveva concordato di giocare 35 minuti per tempo, quindi un totale di 70 minuti, in realtà la partita è durata 55 minuti tra primo e secondo tempo. Per il caldo si era deciso di fare 30 e 30 e invece poi si è fatto anche qualcosina di meno. La Juve oggi si presentava con pochi effettivi, ma per un test del genere, un appuntamento del genere, un evento del genere, non era importante il numero di giocatori presenti, perché stavamo parlando di 16 giocatori totali convocati dalla Juve, di cui tre portieri e uno di movimento, tra quei pochi che c'erano, era pure Sekulov, che è un aggregato ovviamente alla prima squadra, un giocatore che non potrà far parte della Juventus di Tiago Motta, non avrebbe senso e mi auguro di no, anche perché anche oggi mi è sembrato un giocatore dal livello molto basso, sicuramente per una squadra di Serie A siamo ben distanti, quindi non credo che Sekulov alla fine verrà aggregato alla prima squadra, per il momento è lì, perché comunque fa comodo anche avere un giocatore in più. La Juventus conclude per 4-0, vediamo anche i primi gol su azione dell'Euventus di Tiago Motta, il primo gol su azione della Juve di Tiago Motta tra l'altro è un autogol, una bella combinazione in realtà tra Danilo, Locatelli e Vlaovic, Locatelli fa una sponda quasi d'attaccante, forse ci siamo sbagliati per tutto questo tempo, dovrebbe fare la boa in area di rigore, trova un bel corridoio per Danilo che è molto fortunato sul rimpallo, mi pare con Muaremovic trova una carambola che si infila oltre il portiere, la Juventus sblocca la gara di questo pomeriggio con una dose di fortuna sul primo corso azione di Tiago Motta. Il raddoppio al minuto 30 con Weah che ancora una volta, quindi sta diventando un pochettino una costante questa cosa, però ha deciso di tirare da fuori, ha calciato ancora molto forte in diagonale dalla destra e qui Daffara avrà sicuramente da disperarsi in un secondo momento quando andrà a riguardare la partita per cercare di migliorare le sue cose oppure no, c'è stato un gran bel errore da parte di Daffara con il pallone che si insacca dopo una papera bella grossa. Juventus esporta sul 2-0, c'è questo fine primo tempo molto veloce perché in realtà stiamo parlando di veramente pochi minuti di stop con i giocatori che vanno a dissetarsi perché comunque stiamo parlando di una giornata d'agosto molto caldo, lo sforzo fisico è elevato e quindi c'era sicuramente la dissetarsi. Tiago Motta ha dato tante indicazioni, soprattutto a Locatelli che tra l'altro è stato fischiato, io qua apro una piccola parentesi, io credo che Locatelli debba veramente muoversi e che oggi non possa essere un titolare della Juve già con il centrocampo Turam, Douglas Lewis e Fagioli. Questi, se ce li hai tutti i rispondenti, devono essere titolari, deve arrivare anche con Mainers, quindi per me Locatelli è ben distante dall'essere un titolare della Juve. Però sinceramente ragazzi fischiarlo all'interno di un amichevole in famiglia, Juventus A contro Juventus B, ad agosto è quanto più controproducente possibile. Il giocatore deve muoversi, questo è l'ultimo anno che ha a disposizione per capire se può stare dentro o fuori la Juventus e parte anche dentro le georarchie. Però fischiarlo è un amichevole in cui gioca Juve contro Juve. Mi sembra qualcosa di quasi folle, però è la mia opinione e vale quanto la vostra, quindi è veramente un sassolino che lancio lì come argomento di discussione. Non ci sono dei cambi alla fine del primo tempo, se non Di Gregorio che esce per Pinsoglio, quindi l'unico giocatore che poi non giocherà neanche un minuto sarà Perin, perché la Juventus poi andrà a effettuare altri cambi. Entreranno Fagioli al posto di Turam, entrerà Seculo all'opposto di Hildiz, entrerà Cabal al posto di Danilo. Prima di questo però c'è la Juventus che va sul 3-0 e sul 4-0, con due giocatori che tra l'altro sono usciti, quindi li abbiamo appena nominati, perché il 3-0 nasce da un calcio d'angolo battuto corto dietro da Douglas Lewis, dopo un paio di calci d'angolo veramente belli battuti ancora con forza, col pallone che andava via bene, con una pulizia tecnica veramente fuori dal comune ed era tanto tempo che non vedevamo un centrocampista con questo grado di pulizia tecnica nella Juve. Ecco, in questo caso sceglie la palla rimorica con Hildiz, che addirittura era un primo momento, sbaglia lo stop perché Hildiz fa partire avanti la palla, però poi nella rincorsa è bravo a trovare la coordinazione e la forza necessarie per trovare la precisione di metterla a fil di palo, una sorta di esterno fortissimo, e in fila al 3-0. Il gol più bello della giornata è, secondo me, chiaramente quello di Kenan Hildiz, che era partito giocando nella Juve della Next Gen, nell'ex Villar Perosa, se vogliamo, anche se l'anno scorso si era già giocato allo stadium, e ora invece un giocatore effettivamente della Juventus prima squadra e segna il gol del 3-0, dopo appunto un piccolo errore tecnico che però ci sta. E invece il gol del 4-0 firmato da Kefran Turam, dove la Juventus con una bella azione in realtà dall'esterno torna indietro a Turam, che calcia e infila la palla nell'angolino basso lontano di Daffara e fa il 4-0. Dopo questa Turam verrà sostituito e ci sarà Tiago Motta, che andrà anche un po', secondo me, a rimproverarlo, perché comunque è la soluzione più complicata possibile da trovare. C'era a segnalare un Dusan Vlaovic secondo me abbastanza nervoso in alcune situazioni e anche un po' troppo testardo. Un giocatore che mi sembra in questo momento voler comunque continuare a risolvere da solo le sorti della Juventus. Ecco, Vlaovic deve dimenticare quello che è stato il suo percorso alla Juve e tornare ad essere il Vlaovic della Fiorentina, quello che giocava al servizio della squadra. Non c'è più bisogno di strafare. C'è una Juventus che accompagna, con tanti effettivi. Poi è ovvio che in questa partita, ripeto, non è possibile valutarla perché il dislivello tecnico è decisamente eccessivo ed è normale che sia così. Però quando hai tanti giocatori che vengono a rimorchio, vengono in supporto, i centrocampisti che si inseriscono, non c'è sempre bisogno di girarsi quando si spalla la porta per calciare oppure cercare la soluzione personale quando hai gli esterni che accompagnano. Bisogna anche cercare un po' di fidarsi, secondo me, dei compagni, allargare il gioco e trovare delle soluzioni che l'anno scorso non potevi trovare perché non c'erano lì in passaggio. Quest'anno ci sono e devi tornare, secondo me, a ragionare di gruppo e non più di singolo. Questo credo che sia il limite più grande di Vlaovic e secondo me se Vlaovic riuscirà a togliersi di dosso un pochettino quell'aura mistica che si era dovuto creare in questi anni in cui doveva essere il giocatore che risolveva le partite a suon di azione personale, intuizione, tiro, calciare, in un certo modo, eccetera, eccetera, tornerà un calciatore veramente decisivo ad alti livelli. Se invece continuerà su quella linea lì di adesso vi faccio vedere, io credo che potrà trovare tanti ostacoli all'interno di un calcio propositivo ma soprattutto costruttivo come quello di Tiago Motta. C'è una roba che voglio portarvi, dal punto di vista tattico, sempre ricordandoci che non conta niente perché era amichevole contro una squadra delle serie C, tra l'altro della tua stessa proprietà, però abbiamo visto delle differenze rispetto a quella che era stato l'approccio contro il Brest quando abbiamo giocato pochi giorni fa a Pescara. Quindi non più una costruzione con Cambiaso che si alzava di fianco a Turam, o comunque non solo così, ma abbiamo un po' rivisto quello che era il 2-7-2, adesso non mi ricordo, di Tiago Motta quando si discuteva di quella roba lì. Abbiamo rivisto una costruzione un po' più particolare con Di Gregorio o Pinsoglio anche nel secondo tempo richiamati all'interno con i difensori che andavano un pochettino a girare per il campo e con una novità perché abbiamo visto Bremer sul centro-sinistra nella difesa 4 e sinceramente non mi aspettavo questa cosa perché mi aspettavo di vederlo sul centro-destra. Quindi un po' di spunti tattici sempre all'interno della partita che non conta niente li abbiamo visti e secondo me verranno anche riproposti sia con l'Atletico Madrid sia col Com. Quindi se siete interessati a un video del genere me lo fate sapere nei commenti e domani sarò ben lieto di portarvi questo contenuto. E per concludere, grazie mille Adidas per questa maglia che mi è stata donata come a tutti gli altri miei compagni della YouTuber League io purtroppo non ero presente alla Summer Cup a Roma quindi mi è arrivata soltanto oggi grazie mille, è veramente meravigliosa e credo che sia decisamente più bella così piuttosto che con il logo Juventus Creator Lab in attesa di quello che sarà lo sponsor ufficiale lo sponsor vero possiamo goderci questa splendida magliettina e iniziare a contare i giorni perché manca sempre meno all'esordio ufficiale della Juventus allo stadium oggi era il primo giorno di Tiago Motta allo stadio come allenatore della Juventus però dovremmo iniziare a farlo sul serio tra meno di due settimane ciao a tutti ragazzi e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti